Ciao amici! Ciao amici! è successa una cosa un po' brutta che tanti fanno video di denunce contro persone noi abbiamo deciso di fare video di denunce contro questo ragazzo italiano giusto, giusto amici così amici un giorno stavo vendendo kebab arriva questo ragazzo che mi dice amico panino senza cipolla con lo piccante completo panino senza cipolla senza cipolla e io non capire niente io sono io sono kebab non mi dici completo ma cosa è cipolla non mi dici tanti kebab tanti kebab e tu non puoi arrivare qua tu non puoi arrivare a dire a me io panino con la coperta cipolla senza cipolla ho preso macchina nuova abbiamo coprato macchina quindi abbiamo venuto tanti kebab gioiello gioiello ma sono invidiosi questa gente questa gente pietemi le rocce vedi tutte queste cose tatuaggi tutte queste cose dove fa il culo non ci andate a fa il culo stronzi andiamoci fa il culo che va io vado a montecarlo fa il culo che va andiamo a montecarlo nel nostro barca nuova andate a fa il culo fa il culo che va grazie grazie